Il giorno dopo la tempesta in Casarezzo si prova a guardare avanti, tra chi crede alla versione dell'avvocato Levati e chi invece è scettico. La vicenda Ferretti in Uccilli deve per forza di cose passare in secondo piano, anche se la piazza continua ad interrogarsi. Al di là dei prossimi sviluppi della vicenda c'è da preparare un derby sempre più alle porte. Sabato arriva il comunale in Livorno per una sfida in cui l'Arezzo cerca un ulteriore passi in avanti per scalare nuovamente le prime posizioni in chiave playoff. L'allenamento, inizialmente in programma sul campo Luciano Giunti, è stato poi trasferito sul sintetico del buon Conte da Montefeltro. All'appello mancavano Moscardelli rimasti in palestra e gli infortunati grossi Alessio Luciani e Ferrario. Intanto però si è rivisto con il gruppo Massimiliano Benassi. L'estremo difensore, reduce da un intervento chirurgico, è tornato a pieno regime al lavoro con la squadra. Esercizi specifici e partitella per il numero un amaranto che tuttavia al momento figura fuori dalla lista dei 16 over presentata dall'Arezzo. Non è da escludere che nelle prossime settimane il cavallino possa operare qualche modifica nell'elenco. Stefano Sottili intanto ha fornito un'indicazione più che rilevante in vista del Livorno. L'assenza di Luciani non aprirà alcun ballottaggio per il ruolo di terzino destro. L'Arezzo, come accaduto a Roma, virerà sulla difesa a tre. Ecco quindi un 3-5-2, un modulo che vedrà l'impegno dall'inizio di Solini, Barison e Sabatino, i tre difensori più affidabili al momento con questo ordine tattico. Centrocampo con Cenetti e Foglia a fare filtro, Ianga, Berzotti e Masciangelo pronti a contendersi il ruolo di esterni. Sulla tre quarti Corradi sembra in vantaggio su Erpen, mentre la coppia d'attacco non sarà stravolta. Domani e giovedì allenamento allo stadio comunale di Baglialpino, mentre venerdì la rifinitura sarà svolta all'interno del città di Arezzo che resterà a porte chiuse.